Allora, visto che se ne è parlato tanto, visto che anche oggi ne ha parlato un comunicato di Palazzo Chigi, vediamo di tornare su quello che è successo venerdì. Intanto, per favore, io dirigo telegiornali da 28 anni e da 12 anni lavoravo in televisione. Io non ho mai censurato nessuno. In Italia ci sarà qualcuno che potrà alzare la mano. Bene, sfido chiunque a alzare la mano per dire che ho censurato mai qualcuno. Secondo, hanno lavorato con me tanti giornalisti, tanti, in questi anni, in questi decenni, di tutti i tipi. Tra cui c'è anche un influente parlamentare della stessa corrente politica, della forza di maggioranza parlamentare. Anche a tutti loro potete chiedere se ho mai censurato qualcosa o qualcuno. Si è arrivati perfino a dire che oggi si dice così, ma cosa succedeva con le famose videocassette di Arcore? Già, perché nel 94 Berlusconi fece la discesa in campo mandando videocassette a tutti i telegiornali. Bene, io dirigevo un telegiornale abbastanza importante di Mediaset, durava 9 minuti, feci 4 minuti, feci ridurre a 4 minuti quel videomessaggio. Perché? Perché nei telegiornali si deve dare spazio a tutti, ma non è possibile che tutti abbiano l'accesso come se la televisione fosse una buca delle lettere. E allora il Presidente del Consiglio ha tutto il diritto di indirizzarsi al Paese, ha gli strumenti per farlo. Ma evidentemente se in questi giorni ha utilizzato questa risorsa così spesso, è perché siamo alle prese con un'emergenza, un'emergenza grave e importante. Io credo che sia giusto ascoltare tutte le volte che ci sono notizie di provvedimenti, di svolte, di quant'altro, da parte direttamente di chi sta guidando il nostro Paese. Ed è il Premier Conte. Ma non per favore alle polemiche politiche, con evidentemente un rapporto di forze mediatico nei confronti delle opposizioni. E in generale, perché polemiche politiche in questa fase? Per le fake news, ma come abbiamo visto nel servizio di Alessandra Sardoni, la vicenda MES è molto controversa. È vera una cosa, e qui la voglio dire con chiarezza. Il modo in cui Salvini e Lameloni sono intervenuti dopo l'accordo dell'Eurogruppo è stato molto duro e in qualche modo sguaiato. È sicuramente censurabile, da un punto di vista del buon rapporto politico. Ma il Presidente del Consiglio poteva, con un post, con un comunicato, con un'intervista, ristabilire con forza la verità. Tutti avremmo ripreso con enfasi una polemica risposta di Palazzo Chigi nei confronti di quelle accuse. Non si dica quindi che si è voluto rispondere a una fake news. La verità vera è che non c'è nessuna censura e non ci può essere, perché quando Palazzo Chigi chiede di intervenire, interviene. E nessuno chiede il testo prima o censura al volo. Era solo il modo per dire che non può essere dato, se non per Chavez in Venezuela è successo, la possibilità a un capo del governo di intervenire su quel che vuole, quando vuole. Perché questo evidentemente non è da democrazia. E la democrazia è diversa da tutti gli altri sistemi, perché ha l'opposizione. E se la deve coltivare gelosamente chiunque governi, l'opposizione. Perché serve proprio da elemento di equilibrio e di pungolo. E quando sbaglia rafforza anche chi governa. Nel caso del MES siamo più dalla parte, per quel che può contare il mio parere, di Conte. E ancora di più, per la verità, di Gualtieri, che da quella di Salvini e Meloni. E già che ci siamo. Traditore. Ma traditore di chi? Venduto. Ma venduto a chi? Cari, soprattutto di una certa parte, odiatori. Da questo telegiornale, rispetto a Salvini, vado a memoria. Si è criticato qui, con questa voce, sui migranti, sulle ONG, su Carola Racchete, sul 25 aprile, sul censimento degli Rom, sui 49 milioni, su Savoini e la Russia, e poi, quando non era più ministro, sulla scitofonata di Bologna. Su quasi tutte queste cose, molti di quelli che attaccano sono stati zitti, o hanno approvato, perché erano d'accordo, o perché erano alleati, i loro beniamini erano alleati di governo. E allora, voglio ricordare che si è anche votato entusiasticamente per sottrarre a un processo Salvini, da parte di quella parte dell'elettorato. Anche grazie all'expertise di un omonimo dell'attuale Presidente del Consiglio, anche lui Conte, anche lui Premier, in quella fase. Allora, noi non censuriamo, e non si dica questo. Qui la libertà è assoluta, ma non c'è la libertà di qualcuno di dire, ora vai in onda a quello che voglio io. Chiaro? E soprattutto, altrettanto chiaro, la libertà è una cosa seria. Noi preserviamo la nostra, nel rispetto di chi segue questo telegiornale e tutti gli altri telegiornali, perché la democrazia è anche quella delle testate televisive. Spero che venga preservata ancora, nonostante dei comunicati molto scomposti.